In questo format in diretta ho invitato imprenditori ed esperti che utilizzano i video e non solo nelle strategie marketing delle proprie attività. Partiamo 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 ragazzi benvenuti ben ritrovati su social video marketing io sono Manavi e questa è la prima puntata della seconda stagione di imprenditori in video il format in collaborazione con Tom's Hardware in cui chiacchieriamo dialoghiamo con imprenditori e professionisti che utilizzano sia i social video sia una comunicazione innovativa fresca volta ad incrementare l'engagement a dialogare con la propria community a costruire una propria community e sì a generare anche maggior introiti maggiore fatturato perché per tutto quello che noi facciamo con le nostre imprese sicuramente partiamo nel aiutare la nostra audience il nostro pubblico a risolvere un'esigenza risolvere un problema a ottenere un miglioramento ma lo facciamo come Onlus lo facciamo appunto anche per fare impresa e quindi per generare utili. Ragazzi è passato un mese e mezzo dall'ultima puntata per cui se siete nuovi se è la prima volta che guardate una puntata di imprenditori in video mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella in maniera tale da ricevere tutte le notifiche su tutte le live che vi ricordo essere il lunedì e il venerdì alle 13 qui sul canale mobile video marketing il mercoledì alle 13 invece sul canale di Tom's hardware Italia abbiamo anticipato di un'ora rispetto alla stagione precedente ce l'avete richiesto in tantissimi in maniera tale che possiamo pranzare insieme in qualche modo o comunque possa essere un orario più congeniale se non l'avete ancora fatto vi ricordo sempre che su mobile video marketing punto it trovate la guida definitiva per video efficaci con il telefono che vi può aiutare appunto a realizzare i vostri video a partire da questo strumento che abbiamo in tasca tutti i giorni definitiva lo sapete già non è una bacchetta magica ma contiene quelli che sono i 12 step fondamentali a prescindere da quale sia il vostro livello di esperienza partiamo immediatamente con la puntata di oggi è un titolo molto particolare dallo spazio all'influencing abbiamo volato alto per questa prima puntata della seconda stagione abbiamo un ospite che vedo qui nel pannello di regia che è pronto a entrare qui in diretta lui è un autore un formatore medico degli astronauti è un imprenditore un personaggio veramente veramente interessante e da cui vi chiedo di aiutarmi per cui potete utilizzare anche i commenti cercheremo di estrarre quanto più possibile dalla sua esperienza da quello che lui ha imparato da quello che lui insegna da quello che ha studiato in maniera tale che queste cose possano essere utili per noi stessi e per le nostre attività ma prima di presentarvelo vediamo insieme la slip ed eccoci signore e signori diamo il benvenuto al dottor ciao buongiorno buongiorno a tutti filippo buongiorno sono emozionatissimo per questa prima puntata e poi io prima o poi lo farò vedere nel nel backstage di quanto ballo quando parte la sigletta veramente era una musica anche a me è venuta voglia di muovermi filippo grazie mille per essere qui con noi per aver accettato il mio invito grazie a te e partiamo immediatamente con la domanda con la mia domanda classica che tanti dicono essere una domanda banale ma per me non è assolutamente banale ovvero chi sei di cosa ti occupi è una domanda non solo non è banale la più difficile proprio per sproncare le gambe a un uomo con questa domanda ci sono di cosa mi occupo vabbè allora fondamentalmente sono e rimango anche se non lo faccio più un medico mi sono sempre interessato di prestazione alta prestazione sono partito con gli atleti ormai parecchi anni fa ho avuto questa esperienza molto interessante di circa sette otto anni come medico degli astronauti con diciamo il compito principale di curare la loro prestazione psicofisica durante le missioni le riabilitazioni dopo i voli sono stato tra i primissimi a importare in europa il concetto di medicina anti aging ambito in cui ho lavorato per parecchi anni in italia con un mio centro dedicato a questo tipo di medicina finché a un certo punto ho seguito però la mia indole principale che forse è più vicina a quella di un comunicatore che a quella di un vero e proprio medico e ho deciso di non fare più attività clinica di occuparmi di formazione coaching e diciamo che tra l'altro amo giocare sul fatto che mi piace più l'idea di occuparmi di trasformazione che di formazione perché l'idea è proprio quella di prendere per mano un soggetto e aiutare questa persona a cambiare stile di vita lavorando nello specifico sulle abitudini quotidiane sulle scelte sulla consapevolezza e da lì è nata un'azienda che gestisce un po tutta questa attività che si declina in video corsi eventi dal vivo libri adesso abbiamo iniziato la nostra linea di integratori alimentari quindi insomma un'attività che sta diventando sempre più corposa e anche complessa ma tutta orientata in sostanza aiutare le persone a trasformare la propria vita in un'esperienza straordinaria io penso che straordinario sia un termine molto personale non mi riferisco a un certo tipo di guadagno un certo tipo di possedimento materiale ma straordinario perché ricca di belle emozioni ecco molto bello molto bello quello che quello che dici è effettivamente se non conoscete Filippo vi suggerisco proprio di googolare come come si utilizza questo neologismo il suo nome e andare a cercare un po quello che fa perché c'è veramente tanto tanto materiale per poter approfondire la l'attività di Filippo ed esattamente il modo in cui Filippo io ti ho scoperto ti ho scoperto attraverso il tuo canale youtube dove ti faccio i complimenti perché sei uno dei professionisti che oggi in italia secondo me è un po un come come posso dire da prendere di esempio nel modo di utilizzare la piattaforma di youtube per comunicare la propria professionalità per comunicare il il proprio concetto quello che è il proprio messaggio e come ti dicevo anche prima nel dietro le quinte per cui non è una diciamo un piaggismo in diretta mi è piaciuto molto il tuo modo di comunicare perché è un modo di comunicare senza strillare ma è un modo di comunicare per la serie io sono qui e ti racconto quello che ho imparato che ho studiato che ho potuto testare nella nella mia esperienza ti chiedo come è iniziato il tuo rapporto con la telecamera ma in realtà è iniziato in maniera un po casuale un po amatoriale in parallelo all'attività diciamo ambulatoriale facendo una piccola premessa avevo avuto esperienze chiamiamole così di videocamere già quando lavoravo all'agenzia spaziale europea per ovvi motivi c'era l'emissione magari veniva qualcuno e ti chiedeva oltre a intervistare l'astronauta intervistava i tecnici di supporto però insomma quella era un'esperienza abbastanza limitata poi quando invece ero alle prese con la cre il lancio e la crescita di un'attività che allora era anche poco compresa che era quello di un centro medico dedicato all'anti aging così alla prestazione umana chiaro che lì ho iniziato a percepire che era necessario sporsi un pochino di più e da là sono iniziate tutte le mie esperienze sui social da da youtube ma passando anche attraverso gli altri però in modo molto amatoriale cioè nel senso lì era quando c'avevo cinque minuti pigliavo la telecamera facevo un video poi nel tempo chiaramente ci siamo resi conto che in realtà questa cosa prendeva piede cresceva portava contatti faceva capire meglio di che cosa mi occupavo e quindi l'abbiamo progressivamente perfezionata ecco hai hai una routine quotidiana settimanale per la tua produzione di contenuti per la tua produzione di video si diciamo sviluppiamo internamente un piano editoriale in maniera un po come dire verificata da me anche se non sempre stimolata direttamente da me quindi da persone che si occupano dei social audio di seo ti dicono magari ti danno dei suggerimenti poi io spesso li cambio vado anche un po diciamo devo dire io non non mi piace parlare di cose che non mi interessano io parto sempre dal presupposto che sì voglio rispondere a una ricerca di un utente ma voglio anche esprimere quello che ho dentro quando non c'è il match tra le due cose preferisco non dire la mia e andare oltre e poi in genere dedichiamo uno slot specifico di tempo a registrare qualche video possono essere 3 4 come 8 a seconda del periodo e poi li pianifichiamo io ho la grande fortuna di parlare in larga misura a braccio cioè al massimo tengo non so un foglio con tre punti e di praticamente non ripetere mai un video quindi alla fine il tempo non è tanto quello che dedico alla creazione del video devo dire poi sì c'è chi magari prepara la same la same lo carica ma insomma al di là di quello la produzione del mio video è abbastanza il tempo che dura il video poco più ecco senti abbiamo gabriele che ci chiede con che tempistica è avvenuta questa crescita la crescita di cui parlavi di cui parlavi prima in cui proprio dai primi contenuti invece vi siete resi conto che questa cosa prendeva piede ma guarda posso dirti non velocissima io sono poi un grande fautore del concetto di gavetta che secondo me è sparito secondo me è giusto che sia così perché ti esponi via via delle difficoltà che sono leggermente più grandi di te ma non così grandi da spaventarti o da tornare indietro però posso dirti guarda io sono ho finito di lavorare per l'esa attorno al 2007 2008 e sono rientrato in italia e abbiamo avviato l'attività ambulatoriale io credo che la vera capitalizzazione della mia esposizione sui social sui media con i libri l'abbiamo veramente iniziata forse nel 2015 2016 dopodiché è chiaro anche prima servivano queste cose è chiaro che anche prima il video youtube poteva portarmi un paziente in ambulatorio però il vero meccanismo strutturato più o meno l'abbiamo iniziato quando l'abbiamo iniziato quando abbiamo deciso che la nostra esperienza ambulatoriale era era finita che volevamo fare altro allora la abbiamo cominciato a dire che gli strumenti che abbiamo messo in campo ci possono essere utili per andare in questa nuova direzione e ovviamente la risposta era sì addirittura più utili di quello che erano per portare pazienti in un ambulatorio quindi insomma è stata una crescita abbastanza non voglio dire lenta ma abbastanza progressiva anche perché appunto ci stavamo occupando per la stragrande maggioranza del tempo di altro in realtà insomma certo filippo senti prima nel dietro le quinte stavamo stiamo discutendo nella tua attività nello specifico e mi stavi raccontando proprio tu sei ti occupi di performance veramente a 360 gradi nel senso che parti dalla persona dal corpo dall'alimentazione al mindset eccetera eccetera e mi affascinava molto perché tu mi dicevi prima la mia verticalizzazione in realtà è proprio partire dalla giornata dalla routine ci ci racconti qualcosa di più per comprendere meglio quello che il tuo approccio si diciamo che tanti parlano di cambiamento di vita di trasformazione della vita di successo e io ho sempre trovato personalmente che la vita sia un concetto o un qualcosa di difficilmente utilizzabile per indurre un cambiamento nel senso che la vita è un concetto molto astratto di fatto se uno va a vedere di che cosa si tratta non è altro che la somma delle singole giornate vivi tante giornate tristi solitarie insoddisfacenti avrai una vita triste solitaria insoddisfacente cioè non è che le due cose siano disconnesse perché ogni tanto si ha questa impressione parlando con le persone un po' come se non si rendessero conto del peso che ha la singola giornata e attribuissero una grande importanza a un concetto che alla fine non è altro che la somma di quelle giornate certo quindi io già molto tempo fa ho iniziato a concentrare la mia attenzione sulle abitudini sulle scelte quotidiane su quando cose che adesso tanti dicono no quando ti svegli che cosa fai che rituali adotti perché sono convinto che da questa organizzazione migliore della singola giornata nasca la vera opportunità di trasformazione della propria vita e del resto se uno approfondisce questi argomenti non è un caso che tutte le religioni gli approcci filosofici ma addirittura anche la medicina si concentri sulla prassi quotidiana e non su una cosa così appunto lontana e astratta tipo migliora o cambia la tua vita in senso in senso un po teorico e devo dire che poi negli ultimi anni grazie alle neuroscienze c'è molta più conoscenza di che cosa significa un'abitudine di che cosa qui c'ho qualcosa che suona ci mancherebbe le notifiche tanto ci ci invadono esatto no non capisco perché suona il telefono mentre suona il computer cioè tutto non è connesso assolutamente sappi dico a chi c'è qui nella stanza che se risuona risuona anche qua cioè si può fare di tutto per essere però la tecnologia vedi come interrompe poi poi affascinante sulla sulla gestione delle notifiche potremmo potremmo approfondire penso per per settimane perché poi il collegamento il collegamento che hanno per esempio i dispositivi apple tra apple watch iphone ipad mac è incredibile è bello ma in certi momenti c'è l'impressione di non sapere come scappare ecco comunque stavo dicendo appunto le neuroscienze e nell'ultimo periodo ci hanno permesso di capire veramente molto di più non tanto appunto della vita ma di come si formano le scelte di come si formano le abitudini di come si può cambiare un'abitudine diciamo disfunzionale o non produttiva con una più funzionale quindi è stato per me abbastanza naturale seguire questo filone nell'entrare nel mondo della formazione del coaching piuttosto che filoni diciamo un po' più tradizionali come quello della pnl o altri approcci al alla crescita personale quindi un po' come come si fa diciamo nelle aziende per quanto riguarda le vendite per cui se abbiamo un obiettivo di 100 iniziamo a scomporre l'obiettivo per arrivare a comprendere che cosa dobbiamo fare oggi per poter raggiungere quell'obiettivo assolutamente e guarda per me tutto questo è iniziato da ragazzo quando mi illudevo di poter diventare un atleta perché alla fine oggi le neuroscienze ci confermano che il cervello funziona come un muscolo niente di di tanto diverso dalla risposta dei nostri muscoli e sì tu puoi stare seduto su una pista di atletica a dire voglio vincere le olimpiadi voglio vincere le olimpiadi voglio vincere le olimpiadi ma il problema è se non inizi a allenarti quel giorno lì e se non sommi giorno dopo giorno dopo giorno le olimpiadi non arrivi ecco nel cambiamento personale dovrebbe essere un po' la stessa cosa si voglia una vita migliore voglia una vita migliore bene da dove parti cominciamo dalla tua giornata migliore perché una cosa di cui io mi sono reso conto lavorando avendo la fortuna di lavorare con tantissime persone anche online è che tutti noi viviamo buone giornate giornate meno buone ma facciamo fatica a capire il perché soprattutto non lo controlliamo è un processo random cioè tu arrivi alla fine giornata e ti senti bene perché alcune cose sono andate nel verso giusto ma è raro che uno ci rifletta e provi a riprodurle e lì sta il grande segreto cosa ti rende felice alla fine di una giornata e come puoi riprodurlo sistematicamente invece che subirlo a caso diciamo no certo senti su questo tema delle abitudini fra poco ci torniamo perché lo voglio legare poi a a qualcosa che può essere utile anche in quello che è più il mio ambito ma c'è una domanda molto interessante che è arrivata da un altro dottore che il dottor paolo bruniera che tra l'altro un carissimo amico nonché un assiduo spettatore di imprenditori in video dice finipo ti seguo da molto sei sempre cresciuto con tua moglie quali sono i punti cardini che vi hanno permesso di collaborare in modo così efficace bella domanda beh allora intanto ovviamente una complementarietà di interesse di visioni della vita per cui ci deve essere una base no io sono sempre stato abbastanza convinto che avrei avuto difficoltà a condividere la vita con una donna che facesse tutt'altro certo perché per me questo non è solo un lavoro è anche una passione un divertimento è il centro un po un po della mia vita quindi per me era importante pensare che la donna che sarebbe diventata mia moglie con cui avrei condiviso la mia vita fosse parte di tutto questo quando incontrato sonia la complementarietà tra medicina psicologia poi dovete sapere che sonia l'ho incontrata all'agenzia spaziale quindi lei è stata assunta per fare la psicologa degli astronauti io facevo il medico degli astronauti quindi ci hanno messo diciamo ci hanno messo da loro per farci incontrare nel senso quasi perfetto dopo un amore nato nello spazio un amore nato nello spazio o in vicinanza dello spazio dopodiché è chiaro che ci devi mettere anche qualcosa poi tu però nel senso io credo molto anche nella definizione implicita o esplicita dei diversi ruoli io sono nettamente il front man sonia è nettamente più una persona da backstage anche se anche lei fa le sue meditazioni viene ai nostri eventi è un ruolo molto importante per me e anche per il pubblico però tra di noi c'è una differenza nel senso che lei ama che sia io quello più esposto che fa i video che fa queste cose qui e poi io credo molto che ci debba essere rispetto reciproco cioè consapevolezza che l'altra persona porta valore e è chiaro poi nella dinamica di un'azienda bisogna imparare a conoscersi bisogna nel tempo noi ormai siamo assieme da parecchio quindi capire quali sono se torniamo a quello che ti dicevo anche prima offline no capire quali sono i tuoi punti forti e tra me e sonia ci sono molti fenomeni di delle delega reciproca che funzionano molto bene io so in cosa è forte lei e in genere non sono le cose in cui mi sento forte io e quindi va benissimo che le faccia lei sono contento che le faccia e viceversa quindi questi sono un po però alla base ci deve essere insomma secondo me l'interesse comune per la missione che uno vede e a quel punto poi si trova il modo di far funzionare il rapporto noi l'abbiamo esteso addirittura nostro figlio che tra poco fa 14 anni ma anche lui viene ai nostri eventi aiuta ed è stato bello vederlo crescere a contatto con il nostro lavoro ed è bello vedere che lo capisce no certo è un'opportunità incredibile per un ragazzo di 14 anni seguire un percorso di questo tipo già dalla tenera età sì sì penso penso che gli sia stato molto utile per capire anche cosa significa poi gestire una propria attività quante responsabilità si hanno quanto faticoso anche è soprattutto quando non ti piace ed è per quello che io dico sempre a mio figlio può sembrare anche un consiglio un po strampalato però io gli dico sempre tu pensa a trovare una cosa che ti piace non preoccuparti d'altro per me è anacronistica questa cosa 18 anni devi mantenerti ma ti mantengo io non importa l'importante è però che vedo che tu stai crescendo e che quello che fai lo fai con vera passione credo che questo sia più importante del del discorso a 18 anni devi essere autonoma in tanni devi essere autonomo mi interessa poco quello mi interessa vedere che uno ci mette veramente il cuore ha trovato la sua strada ecco questo penso sia più importante e c'è infatti adesso mia moglie che interviene con un amore spaziale è una grande sincronicità beh poi sapete ci vuole anche un po di fortuna sì sì adesso la chimica tra le persone è qualcosa che si crea e si costruisce nel tempo si perfeziona ma parte da un qualcosa di imponderabile che è sento che questa persona ha qualcosa a che fare con me insomma allora comprendo bene quello che dici perché condivido il percorso anch'io con mia moglie anche il percorso professionale percorso che condividiamo nella comunicazione la crescita personale la formazione ed è veramente veramente appagante senti dicevi con sonia a tu in front end e lei più che altro in backstage per cui tu che fai video e lei che sta nel diciamo nel dietro le quinte ma nel tuo modo di fare i video che ruolo ha avuto sonia in qualche modo un ruolo di supporto un ruolo di consiglio di specchio no no un ruolo un ruolo di grande supporto anche pratico operativo perché tuttora io adoro quando c'è lei dietro la telecamera faccio i video anche con altri quando capita ma preferisco che ci sia lei perché mi conosce meglio di tutti gli altri quindi riesce anche a capire molto bene se quel video mi rappresenta o non mi rappresenta io dico sempre che dopo tutti questi anni deve avere un gran coraggio per non aver la nausea e con altri di parlare lei dice che sempre una bellissima esperienza quindi io la sfrutto ben volentieri perché fa un po da da specchio a me stesso cioè a volte magari poi questo fa anche ridere perché ogni tanto mi mostra dei cartelli che io non capisco o interpreto in un altro modo magari ma per me è molto importante che che ci sia lei perché parto sempre dal presupposto che se si emoziona lei con quello che sto dicendo è probabile che si emozionino tutti perché perché la sentite tantissime volte quindi se riesco a rompere quel pattern no di di a tanto è tutto uguale vuol dire che probabilmente un buon video quindi per me è importante che che ci sia lei poi devo dire che sonia come persona è una molto come posso dire è una che mette molte ali cioè nel stesso che ti dà l'impressione di farti andare non è quasi mai l'impressione di trattenerti ok io a me piace questo perché mi piace usare mi piace provare cose nuove lei è difficilmente quella che ti dice no 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 dai di come l'hai sempre detta questa cosa che così non mi piace anzi rimane colpita e anche perché non sa quello che sto per dire certo quindi un po simile all'esperienza io cerco di creare una situazione che sia simile all'esperienza che vivrà poi effettivamente la persona andando a vedere i video su youtube cioè non lei non vede la scaletta prima non sa di che cosa parlerò e quindi è un po' una sorpresa prima parlavi delle abitudini e di come costruire un cambiamento importante un cambiamento grande partendo proprio dal piccolo dai piccoli passi e quindi ti chiedo in un periodo storico veramente particolare penso che il 2020 io raccontavo sono molto curioso di poter vedere magari fra 10 20 anni cosa scriveranno nei libri di storia nei blog come racconteranno questo questo periodo e quest'anno che spero si chiuda con quest'anno in qualche modo e per cui è un periodo di grande cambiamento soprattutto per anche per le aziende quindi cambiano cambiano gli asset cambiano i mercati cambiano le modalità cambiano un sacco di cose e cambia anche il modo di comunicare di fare marketing siamo siamo cresciuti un po nell'era nell'era della televisione con una comunicazione più broadcast più unidirezionale alla famiglia del mulino bianco e oggi ci troviamo invece in una modalità che vuole più una comunicazione più vera vuole avere più un rapporto ora per le aziende soprattutto quelle più strutturate è difficile cambiare determinati determinati modelli determinati paradigmi riuscire a modificare il proprio modo di porsi qual è quello che è il suggerimento che dai tuoi studi dalle tue conoscenze dalla conoscenza neuroscientifica possiamo dare un imprenditore per approcciarsi nella maniera corretta in qualche modo a questo cambiamento e riuscire a cavalcarlo questo cambiamento perché io credo fermamente con tutto il rispetto per chi sta soffrendo in questo periodo ma credo veramente che questo periodo rappresenti anche una grandissima opportunità sì io credo che il non so neanche se chiamarlo consiglio la riflessione che mi sento di condividere è una riflessione sull'adattabilità noi esseri umani abbiamo nella storia della nostra evoluzione dimostrato un'enorme adattabilità non siamo i più forti non siamo i più bravi praticamente niente ma siamo i più flessibili in tantissime cose questo ci ha portato fino qui ed è chiaro che allo stesso tempo in determinate situazioni in cui certi meccanismi funzionano bene per tanto tempo questa propensione ad adattarci un po la perdiamo no oggi è il momento di ritirarla fuori cioè oggi è il momento di ritornare nomadi da stanziali che eravamo è il momento di veramente interrogarci se non abbiamo le capacità le risorse per conquistare questa nuova epoca o siamo troppo abituati a quelle che utilizzavamo precedentemente è chiaro che ci sono tante cose che stanno cambiando e probabilmente il cambio repentino porterà e sta portando già a degli effetti di riorganizzazione economica anche dolorosi per tante per tante persone però quello che dico io è siamo incappati e probabilmente reagiamo esattamente come hanno reagito tutte le altre generazioni precedenti in un grande cambiamento storico che in questo caso si è abbinato a una pandemia che per certi aspetti probabilmente sarebbe avvenuto comunque magari in maniera più diluita ecco l'adattabilità è una cosa che dobbiamo allenare cioè dobbiamo provare a uscire dai nostri schemi sembra banale ma l'adattabilità si allena anche provando a lavarsi i denti con la mano sinistra se sei destro cioè sembra banale ma l'adattabilità è veramente una funzione del cervello lascia stare che poi stiamo parlando di aziende le aziende sono fatte da cervelli però quindi essere plastici fluidi essere capaci di adattarsi a quello che accade è forse l'unica grande garanzia di poter sopravvivere ai grandi cambiamenti dell'ambiente in cui uno si trova infatti io ho tra le varie cose che faccio come sai ci sono i libri e l'ultimo mio libro si chiama proprio forte come l'acqua perché ho voluto focalizzarmi saprai benissimo questa famosa frase di brus lì no sì acqua amico mio che è un'estrapolazione poi molto cinematografica come sapeva fare brus lì di una saggezza diciamo più antica orientale che però sta a indicare l'importanza della flessibilità dell'adattabilità della non rigidità è chiaro se vedi certe aziende che vengono da periodi economici di maggior stabilità ti danno invece la parvenza di una grande rigidità di processi di uffici di sedi di orari di cartellini molto di questo probabilmente non ha più un grande senso oggi e bisogna però stimolare questa adattabilità così come io parlo meno di vita e più di abitudini quotidiane io perché vengo da quel mondo lì tendo a vedere l'azienda sempre come un organismo vivente l'azienda è il prodotto delle persone che ci stanno dentro se le persone che sono dentro l'azienda non sono adattabili l'azienda sarà rigida quindi sempre a livello dell'individuo secondo me che bisogna intervenire per primo questa cosa che hai citato dello spezzolino da denti mi piace mi piace tantissimo perché io l'ho sempre utilizzata sul cambia la strada che fai tutti i giorni fai una strada differente la nostra vita è caratterizzata da delle abitudini che se ci pensi non si capisce neanche da dove nascono io sono anni che mi siedo allo stesso posto a tavola perché non saprei mica dirti però se cambi il posto a tavola hai una prospettiva diversa della sala delle persone è incredibile ma funziona così per cui se noi volessimo in qualche modo crearci un programma in cui ogni giorno introduciamo una due tre micro modifiche come queste per cui domani mattina i denti me li lavo con la sinistra anziché con la destra anziché prendere quella strada faccio un'altra strada anziché sedermi in quel posto mi siedo in un altro già con questo posso riuscire ad allenare la mia adattabilità e è che è che si stenta a crederlo no siamo sempre lì si stenta a dare il giusto peso alle micro cose ma sono le micro cose che associandosi danno vita alle macro risposte e noi facciamo fatica a crederci in questo tant'è che la neuroscienza ci insegna oggi che per essere in grado di interrompere cattive abitudini sostituirle con buone le due caratteristiche principali che deve avere la nuova abitudine che inserisci è deve essere semplice ossia portata di mano e brevissima deve richiedere meno di 30 40 secondi per essere attivata ma se riesci a intervenire su quell'abitudine che è il tuo pattern normale con una sostituzione mano a mano si allenerà quella e quella lì diventerà la risposta abituale cioè sono in ansia mi accendo la sigaretta sostituito dal sono in ansia faccio tre respiri profondi e certo uno può dire ah sì facile a dirsi ma sono vent'anni che mi sento dire anzi di più da quando ero ragazzina facile a dirsi facile non facile decidi tu l'importante è che provi a fare qualcosa perché altrimenti l'unica cosa facile veramente non fare un tubo cosa che caratterizza parecchie persone ahimè quindi potremmo lanciare anche la sfida agli imprenditori che ci stanno seguendo in questo momento lanciate che domani mattina se che aprite mezz'ora dopo e per cui tutti i collaboratori arrivano mezz'ora dopo potrebbe anche essere d'accordo con questa con questa iniziativa ma sono qualsiasi esempio non io sono d'accordo agli imprenditori ma qualsiasi esempio di attività che scardina un pochino la prassi è qualcosa che inevitabilmente aumenta il livello di attenzione di consapevolezza quindi vale la pena provare vale la pena provare a fare cose diverse del resto voglio dire se hai sempre fatto le stesse cose finirai sempre nello stesso posto con gli stessi risultati se l'ambiente attorno a te sta cambiando continuare a insistere sugli stessi meccanismi non è in genere una grande strategia quindi e anche se fa paura e quella la direzione da prendere però per non mandare a monte tutto la cosa più intelligente da fare farla al micro livello cioè partire dalle cose più piccole non dalle cose più grandi molto molto interessante molto interessante mi vengono in mente anche un sacco di giochi che si potrebbero portare l'azienda da questo punto di vista anche perché poi alla fine il sistema è appunto quello dell'allenamento fisico cioè non è che vai in palestra la prima volta e fai squat con 400 chili no cosa fai progressivamente lasci il tempo il tuo muscolo il tuo sistema neurologico di adattarsi ai carichi pezzo per pezzo e noi possiamo fare lo stesso nella vita quotidiana anche se non è così semplice identificare cosa è un carico cosa è la variabile che modifichi ma se ci metti un po di fantasia un po di impegno non si capisce abbiamo una domanda da lorella che dice filippo nel tuo business in cui gli eventi hanno un ruolo importante come gestito a livello imprenditoriale lo stop legato al lockdown male perdendoci dei soldi punto no parte la battuta diciamo noi abbiamo un grosso evento che tipicamente facciamo a dicembre e dunque quello è stato impattato per modo di dire e pare che si possa pensare di fare a dicembre con determinati ovviamente cambiamenti distanzi eccetera e poi l'altra cosa che è successa è che abbiamo rimandato un corso che facciamo in aula suddiviso in vari moduli per un pubblico più piccolo l'abbiamo rimandato e abbiamo colmato un po di questo vuoto con una presenza online più sistematica e però siamo anche riusciti a recuperarlo infatti facciamo l'ultima parte proprio questo weekend che viene quindi alla fine devo dirti non è stata per noi una cosa così traumatica fortunatamente certamente un po più di resistenza paura eccetera la si percepisce nelle persone staremo a vedere come come va per l'evento di dicembre ecco lì sarà un po la prova la prova definitiva perché se da qua all'autunno la situazione peggiora drasticamente sarà da capire cosa cosa succede speriamo di no e senti proprio a livello a livello aziendale interno ci sono delle delle particolari attività esercizi esercitazioni chiamiamole che hai messo in campo durante il lockdown proprio per favorire il processo di di cambiamento di problem solving in azienda ma sai qui sono un po tutti abituati che il lavoro si mescola molto al nostro coaching continuamente ok quindi da un certo punto di vista non c'è stato bisogno di fare particolari interventi perché se io parlo alle persone con cui interagisco di adattabilità mi aspetto che il mio team sia in primis adattabile certo l'altro è un team che si espone anche nell'organizzazione degli eventi quindi in larga misura conoscono anche le persone che vengono agli eventi ai corsi quindi insomma devono essere persone strutturate in un certo modo dopodiché ti devo anche dire noi siamo in svizzera non siamo in italia e qui è stata meno pesante la la conseguenza della pandemia è stata leggermente più soft per cui non c'è stato un vero lockdown al cento per cento come è stato in italia questo ha anche aiutato a rendere la situazione un po meno drammatica insomma certo è stato è stato più soft in qualche modo sono stati meno contagi evidentemente c'è stato anche un po più di tempo rispetto all'italia per organizzarsi forse più fortuna non lo so ma insomma è stata meno diciamo sono stati molto a livello di consigli ma meno effettivamente chiusura totale ecco anche se per svariate settimane abbiamo tutti lavorati da casa anche per una ragione poi di tutela comunque certo fronte della situazione insomma certo senti ritorno un attimo all'ambito video sfruttando sempre la tua esperienza e visto che una del diciamo dei limiti più grandi di chi in qualche modo sente che è arrivato il momento di metterci la faccia è proprio il terrore di quel di quel buchetto nero che è caratteristica principale della telecamera quali sono suggerimenti che tu puoi dare proprio in termini di coltivare micro abitudini di fare cose differenti per riuscire a superare anche in qualche modo questa paura e comunque trovare una una familiarità poi con con la camera ma allora intanto io credo che vada definito quanto capace sei di parlare bene perché è chiaro che se non sei un grande speaker parlare da solo davanti una telecamera aggiunge un livello ulteriore di difficoltà di spontaneità di naturalezza e in questo caso siccome le capacità oratorie si allenano come tutto partirei dall'allenarmi al parlare in generale al di là che ci sia una telecamera o ci sia un'altra persona questo è un aspetto perché credo che poi se diventa troppo faticoso si fa fatica a star dietro alle necessità editoriali delle piattaforme che permettono al canale poi di crescere no cioè se ci stai un mese a fare un video fa un video al mese è un po difficile che tu abbia un impatto quindi questo è la prima la prima il primo aspetto poi secondo me almeno questo vale per me l'altra cosa è ma questo è in genere per uno speaker evitare di parlare a vanvera cioè decide di parlare se hai qualcosa da dire se no è meglio star zitti perché no ma sembra paradossale perché oggi dire di star zitti sembra un tabù ma voglio dire Oscar Wilde diceva è meglio stare zitti e correre il rischio di passare per stupidi piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio e credo che sia molto intelligente come tanti assolutamente quindi deve avere in testa che valore vuoi portare cosa hai da dire al mondo perché se devo inventarmi qualcosa da dire per essere su youtube ma per me è meglio che vai al bar a pigliarti un gelato perché non sarà quella una strada una strategia vincente secondo me l'altra cosa per me è utile è immaginarsi che quel famoso obiettivo non sia un obiettivo ma sia qualcuno io credo che sia molto utile andare oltre l'obiettivo magari anche mettendosi una bella foto di qualcuno con cui ti piacerebbe interagire o la foto di un audience ma togliere la pesantezza la forza del ruolo che ha l'obiettivo che deve essere non te ne deve fregare niente deve essere secondario non è lui l'oggetto delle tue attenzioni è chi vedrà il video e più riesci a immedesimarti in chi vedrà il video e ovviamente più naturale appassionato sarai quindi io credo che sia anche un processo di smitizzazione un pochino cioè di non farsi intimorire dall'idea sto girando un video eccetera essere un attimo più va beh sto girando un video andrà su youtube lo vedrà qualcuno perché poi molta di questa paura non è paura dell'obiettivo paura del video paura del giudizio la paura del giudizio ti condiziona i giudizi negativi ci saranno sempre lo sappiamo prendi quelli che hanno qualcosa di vero per migliorarti e gli altri lascia che parlino tanto voglio dire non ha molta importanza perché secondo me dietro a questa paura della telecamera del video c'è a livello conscio subconscio l'idea di dire io butto questa cosa lì e chissà cosa dirà la gente ti rimarrà questo dubbio finché non lo verifichi e quando lo verificherai sappi già che ci sarà qualcuno che ti insulta che ti dice qualcosa di negativo la vita io spesso da questo punto di vista porto porto l'esempio del guarda i personaggi che hanno un grande pubblico se vai a vedere quelli che sono i commenti che ricevono troverai sempre praticamente sotto chiunque due fazioni in qualche modo chi li adora e chi li critica per cui penso devi essere te stesso cioè io non amo sfruttare appunto l'urlo le polemiche gli attacchi nei confronti degli altri perché non faccio il polemista di mestiere e secondo me non aggiungono valore ma la prima cosa è sì te stesso e dopodiché alcuni ti apprezzeranno altri ti apprezzeranno meno ma insomma se ti fai condizionare troppo dal dal giudizio degli altri è chiaro che che non verrà mai fuori la tua vera spontaneità non sarai rilassato tenderai ad essere accondiscendente abbiccante voglio piacere a tutti eccetera abbiamo fuori una cosa una cosa fatta male insomma per cui però appunto secondo me il punto di partenza è avere chiaro cosa vuoi dire a chi e perché ecco questo è Filippo siamo arrivati in fondo a questa bellissima diretta questa chiacchierata che mi piacerebbe approfondire ancora perché mi piacciono un sacco questi argomenti ma siamo proprio in fondo e per cui l'ultima domanda che ti faccio è qual è il il pensiero l'augurio il messaggio che ti senti di condividere con chi è stato con noi fino a questo momento che ringrazio tantissimo e chi rivedrà questa live nei giorni nelle settimane nei mesi a seguire ma potrebbe essere molto semplicemente se sei convinto di avere qualcosa da dare agli altri al mondo oggi le tecnologie le piattaforme che sono a disposizione sono non dico magiche ma quasi e quindi se sei convinto di questo datti da fare chiarisciti le idee punta sull'essere te stesso punta sull'essere diverso dagli altri non copiare ma cerca di essere originale non avere fretta perché quando si ha troppa fretta si finisce col copiare qualcun altro leggi studia approfondisci elabora e appunto quando hai definito che cos'è il valore che vuoi apportare io penso che con gli strumenti che ci sono oggi non ti ferma più nessuno ma non aver fretta nel fare prima questo lavoro un po più introspettivo perché secondo me è da lì che nascono poi i grandi progetti un messaggio che cala proprio e specifico e spinge in qualche modo all'azione grazie mille grazie a voi grazie a te grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo per tutto e alla prossima ciao 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 ragazzi puntata veramente incredibile siamo ripartiti alla grande con questa seconda stagione di imprenditori in video una puntata oserei dire perfetta per aprire la seconda stagione perché è il grande messaggio che ho sentito permeare dalle parole del dottor filippo ongaro è proprio un messaggio basato sul sii flessibile datti da fare metti in campo azioni differenti agisci nel piccolo per generare quelli che sono i grandi cambiamenti che possono far bene alla tua vita che possono far bene alla tua azienda che possono far bene a tutte le persone che sono collegate a te sia nell'aspetto personale che nell'aspetto professionale per cui quello che mi sento di dire una puntata assolutamente anche da rivedere e riascoltare perché ho trovato un sacco di spunti veramente utili e da domani mattina proverò a lavarmi i denti appunto con la mano sinistra anziché con la mano destra una piccola chicca ma secondo me è decisamente interessante mi raccomando andate a cercare il dottor filippo ongaro su google trovate un sacco di video un sacco di libri un sacco di attività per poter approfondire la sua professionalità con questo la puntata di oggi è veramente finita mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale attivata la campanella e per ricevere anche tutte le notifiche via mail delle prossime live di imprenditori in video mercoledì alle 13 siamo sul canale di tom hardware venerdì invece di nuovo su questo canale su mobile video marketing punto it trovate sempre la guida definitiva per video efficaci con il telefono che vi può essere molto utile per imparare a realizzare dei video migliori proprio a partire dal vostro telefono con questo è veramente tutto noi ci rivediamo mercoledì alle 13 sul canale di tom hardware italia salute in questo format in diretta ho invitato imprenditori ed esperti che utilizzano i video e non solo nelle strategie marketing delle proprie attività grazie a tutti grazie a tutti